Noi siamo nell'IT, siamo il gruppo che segue il mondo dati, oggi si chiama Data Product e abbiamo iniziato un percorso insieme a quello del COE per andare verso il cloud un paio di anni fa andando a fare un lift and shift di una soluzione cloudera, dup, on prem. Cosa ci ha spinto ad andare verso il cloud come area nostra? Sicuramente la scalabilità, io qualche anno fa ho dovuto improvvisamente ampliare il parco dell'Exadata dell'Oracle perché andavamo a un 10x rispetto al previsto dell'accumulo dei dati. La parola chiave per definire la nostra sfida è una, penso che sia comune a tutti, è crescita. Questa è la crescita intesa come scalabilità, la crescita dei clienti e la crescita quindi poi degli utenti porta ad avere una necessità di sistemi sempre più performanti e non significa soltanto aggiungere ulteriori nodi di compute, significa anche riuscire a rendere l'architettura più scalabile. Scalabilità che non è soltanto una questione poi di crescita di utenti ma anche di abbattere la latenza, ma migliorare le performance perché i competitor lo fanno, dobbiamo farlo anche noi e quindi abbiamo adottato delle soluzioni, abbiamo sostituito soluzioni cloud con ulteriori soluzioni cloud perché ci hanno permesso quindi con un miglioramento architeturale di andare ad abbattere di un quinto, o meglio di rendere 5 volte più veloce il nostro data lake.